Super Green Pass debutta oggi la nuova certificazione che resterà in vigore fino al 15 gennaio. Da oggi infatti le regole per vaccinati e non vaccinati cambiano. L'obiettivo del Presidente del Consiglio Mario Draghi è mantenere aperte tutte le attività anche se i dati dovessero peggiorare, ma impedire ai non vaccinati di frequentare i luoghi dove il rischio è maggiore. Servirà dunque essere in possesso di un Green Pass rafforzato per vaccinati o guariti dal Covid e scatta l'obbligo di avere il Green Pass base, ossia la certificazione ottenuta con tampone molecolare valido 72 ore o con tampone antigenico valido 48 ore, anche per i mezzi pubblici e poi per recarsi al lavoro e per i servizi essenziali. Le uniche esenzioni al momento riguardano i soggetti di età inferiore a 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Il certificato resta obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, mense comprese e senza Green Pass. Si può prendere il taxi ma non si può salire su autobus, metropolitane e treni regionali. Per entrare nei centri commerciali non servirà il Green Pass, ma se si passa in arancione si dovrà avere il Super Pass. In zona bianca e gialla il caffè al bar è consentito a tutti, ma in arancione chi non è immunizzato o possiede il Green Pass base non potrà prendere il caffè al bancone, cosa invece permessa con il certificato rafforzato. Solo vaccinati o guariti dal Covid in tutte le zone di rischio possono frequentare cinema, teatri, sale da concerto. Per musei e mostri in zona bianca e gialla bisogna avere il Pass base, che però in zona arancione non basta. Stadi e palazzetti sono chiusi sempre a chi non è vaccinato o ha solo il tampone, mentre in discoteca si entra soltanto con il rafforzato Green Pass obbligatorio anche negli alberghi. Capitolo sport, il Green Pass base per le palestre e piscina numero chiuso in zona bianca e gialla e quello rafforzato in zona arancione. Infine per quanto riguarda gli spostamenti ci si può muovere liberamente anche se non si è vaccinati nelle regioni bianche e gialle, mentre in quelle arancioni se non si ha il Green Pass ci si può muovere verso altri comuni o verso altre regioni solo per necessità, saluto o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune.